Ciao a tutti, questo video è in collaborazione con Karen Body e vi faccio un update, sarà un video un po' più completo e definitivo su Zip Halo. Vi avevo già fatto una presentazione, vi avevo già fatto anche un video recensione, questo è un aggiornamento a distanza di mesi, adesso non ho quantificato quanto, però dopo un po' di tempo, anche perché nel frattempo ho chiesto di provare altri gel, così vi posso anche parlare di questi. Secondo me la risposta di questi gel vi piacerà, non lo so, vedete, poi mi fate sapere voi. Allora, so per certo, però perlomeno, perché io il link che voi utilizzate qua riesco a vedere, no, non chi ovviamente, ma riesco a vedere che un po' di persone hanno acquistato Zip Halo, quindi vi chiedo di lasciare il vostro parere qui sotto. Io qualcuno ce l'ho già, nel senso che mi ha scritto, ah grazie a te ho comprato questo e quell'altro, è perché voglio che ci siano anche dei feedback da parte vostra, poi magari chi l'ha comprato potrà vedere questo video per sapere se comprare o meno questi gel, perlomeno, io vi dico la mia opinione, poi ognuno è libero di provarli a propria scelta. E quindi, dicevo, vi chiedo appunto di lasciare il vostro parere. Che cos'è intanto Zip Halo? Anche se l'ho già detto negli altri video, vi lascio qua eventualmente, non la presentazione che magari quella è un po' inutile, vi lascio tutto il video precedente, dove comunque lo spiego abbastanza. È un dispositivo che unisce la microcorrente con la nanocorrente. Di dispositivi a microcorrente ne parlo da anni, non so quanti, ma ormai tanti, secondo me almeno quattro, devo andare a vedere quando risale il primo video sul NuFace, però ho provato io altri due dispositivi, no? Con la microcorrente, e già era una cosa che ha sodato che aveva dei risultati e che mi è sempre piaciuto. Questo qui invece è qualcosa di diverso, che in più ha la nanocorrente. Quando si inizia a utilizzare, e questi sono discorsi che già feci all'epoca, chi ha visto i miei video precedenti già lo sa, quando si comincia ad usare la microcorrente, che agisce sulla muscolatura del viso, che sono le muscoli più piccoli, diciamo così, rispetto a quelli del corpo, cioè le stimolazioni di cui hanno bisogno sono inferiori rispetto a un bicipite che ha bisogno di un peso, è uno sforzo più forte, insomma, come dire, per essere allenato. Andando a stimolare la muscolatura, si riesce a un pochino tendere la pelle, no? Non miracoli, non miracoli, assolutamente, ma si riesce ad avere già un bel risultato. E comunque la microcorrente, in ogni caso, dà anche dei risultati di per sé sulla pelle, cioè sull'aspetto della pelle. Non so se vi ricordate, comunque ho sempre fatto presente questa cosa, che all'inizio, quando si cominciano ad utilizzare, io consiglio sempre di non cambiare skin care routine all'inizio. Perché? Perché comunque la pelle è come se diventasse un po' più recettiva rispetto agli attivi, e quindi meglio non cambiare nulla in quel momento lì, no? E poi piano piano, se uno finisce un prodotto, ne inizia un altro, ok. Però questo è veramente molto utile, perché si riesce a notare proprio l'aspetto della pelle che cambia. Con la nanocorrente, qui che volevo arrivare, andare a parare, questa cosa è ancora più evidente, perché la nanocorrente, a parte che io credo, da chi che io sappia, è l'unico dispositivo che ha questa combinazione qua, la nanocorrente agisce a livello cellulare, non tessutale, ecco, in quel senso lì. Quindi, in questo senso appunto, permette di essere, per non rendere la pelle ancora più permeabile al, non sensibile, mi piace più la parola permeabile a eventualmente, nei limiti del possibile, sapete che i cosmetici non possono andare chissà in quali profondità, e aiuta anche a stimolare la produzione di collagene ed elastina. Aiuta, supporta, poi, la materia prima gliela dovete dare voi dall'interno, che sia con l'alimentazione e o con gli integratori, questo è un discorso a parte. Quindi, partiamo dal presupposto che già per me così ha vinto, ma già avevo detto l'altra volta che mi è piaciuto, che secondo me è, in questo momento attualmente, tra tutto quello che esiste in termini di dispositivi, secondo me, quello da avere. Cioè, se voi non avete niente, per me vi dovete comprare questo come prima scelta. Se, e qua ci tengo a sottolineare questa cosa, perché mi è stata chiesta, se avete già un dispositivo microcorrente, non mi sento di dirvi, compratevi questo. Cioè, se potete comprarvelo, compratevelo, poi magari l'altro lo potete anche rivendere. Se io fossi al posto opposto, conoscendomi, probabilmente lo farei. Cioè, probabilmente io comprerei questo e venderei l'altro. Questo sì. Però, per me, in tutta onestà, la microcorrente rimane comunque un'ottima cosa. Se ce l'avete, o finché vi funziona, finché non vi si rompe, andate avanti con quello. Però, ribadisco, questo, secondo me, ha questo plus in più. L'altra volta ho parlato meno dei trattamenti. Adesso mi soffermo un po' di più. Io ho fatto qualche ripresa, mentre li faccio, e ve li metterò a fianco, metterò a fiancato il video in cui mi faccio i vari trattamenti. Anche se, lasciatene un po' che trova. Perché, comunque, la gran figata di questo prodotto, di questo dispositivo, è l'app. Per me l'app, penso che sia, sì, a parte ovviamente la funzionaria del prodotto stesso, penso che sia la cosa più importante. un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, ne parlavo con una ragazza, il gruppo Telegram, che l'ha preso. Ecco, lei, in questo prodotto qua, non si può, diciamo, gestire, cioè, da qua, voi non potete aumentare e diminuire l'intensità. L'unica cosa che si può fare, è che, guardando i trattamenti nell'app, adesso vi faccio vedere qualcosa, lì potete vedere se quel trattamento ha un'intensità alta, media o bassa. Perché ogni singolo trattamento è fatto dalla combinazione di microcorrente, nanocorrente, entrambe insieme e con intensità diverse. E ogni trattamento, appunto, in base anche ai movimenti che voi fate, combina queste cose qua ed è specifico. C'è una combinazione veramente grande di trattamenti diversi in base a questo. Lì la sensibilità di ognuno di noi è diversa, quindi io non ho problemi neanche con l'intensità più alta, ma in questo senso, una cosa che dico sempre di fare, se all'inizio ti sembra, allora, se sentite la corrente, la microcorrente, in quel caso la prima cosa da fare è mettere molto più gel, molto più gel. A volte a me capita pure di metterne poco in alcuni punti e la sento. Non è insopportabile, magari, sì, un pizzicorio, niente di che, attenzione, non pensate a cose esagerate, però la prima cosa importante è di mettere la quantità giusta di gel. Dopodiché, appunto, si va ad accendere, quindi così è acceso, adesso, questo beep accende il dispositivo, e, se non prendete l'app, vi fa in automatico questo trattamento qui, che si chiama il lifting, ed è dura 4 minuti, ed è già preimpostato. Se non volete fare questo, ma volete cambiare, da acceso, attenzione che in questo momento lui non è attivo, si attiva solo quando viene appoggiato sulla pelle dove c'è il gel, e la luce di qui si diventa più intensa. Fino a quel momento non partono i 4 minuti, per dire. Quindi, se non volete fare quello, ne andate a scegliere un altro. Faccio un esempio, questo, secondo, questo è uno dei più fighi, infatti è uno di quelli che ho ripreso, ed sarà quello che adesso vi metterò qua, e vi faccio vedere, anche se è velocizzato, si chiama tutto in uno, dura 12 minuti, ma ragazzi, l'effetto finale è una roba pazzesca, c'è il prima e il dopo, tra metà visa e l'altro, che è scioccante, e vi dico, per esempio, questo è nuovo tra l'altro, infatti è tra quelli nuovi aggiunti, e questo qui è considerato da intensità 2, questo trattamento, lasciò dall'incarnato, atteno le rughe sottili, donano la luminosità incredibile, le potenti microcorrenti stimolano i muscoli facciali per migliorare il tono, mentre le nanocorrenti, quindi questo è a entrambi, agiscono per donare all'incarnato vivacità e pienezza, mi fa ridere, vivacità e pienezza, aspettatevi risultati istantanei che migliorano ogni utilizzo, assolutamente vero, vi dico che questo secondo me è uno dei più potenti, qua c'è poi uno schema, diciamo, riassuntivo, obiettivo, trattamento viso completo per delineare, rassodare, rafforzare la pelle, risultato, la pelle appare se percepisce più compatta, luminosa e piena, la corrente che utilizza è il microcorrente di media intensità, è il nanocorrente energizzante, attenzione che la nanocorrente non la sentite, cioè praticamente non si avverte, e qua dice, intensità parla di sensazione di formicolio, un pochino si può sentire, arriva a disco, se mettete una quantità di gelato adeguato, non dovreste sentirlo, livello moderato, questo è stato, cioè penso che sia uno dei più potenti, vi ricordo che io quando ho iniziato, ho fatto il trattamento di un mese, perché voi potete anche scegliere qui, trattamento viso completi o mirati, ci sono i cicli tipo, i piani, ecco non mi venivo, i piani di trattamento, clicca qui, quello come nuovo utente, quindi i primi 14 giorni, io l'ho saltato questo, ammetto, ma perché non sono nuova alla microcorrente, ecco, preparazione a un evento, che dura 6 giorni, quindi voi 6 giorni prima, iniziate, qua vi dice tutto quello che dovete fare, giorno per giorno, e io ho fatto invece questo, la migliore pelle della tua vita, che dura 30 giorni, me ne avevo già parlato di questo, nella volta precedente, però era per farvi vedere, tutti i trattamenti, insomma, alcuni dei trattamenti presenti, un altro che a me piace tantissimo, è questo, che si chiama il preferito del fondatore, questo è più, ah, quello lì tutto in uno, io lo preferisco la mattina, anche perché ha un effetto talmente evidente, nell'immediato, che dovrete assolutamente sfruttarlo, prima del trucco, questo qui invece, è il preferito del fondatore, che dura 10 minuti, questo qua è perfetto la sera, perché questo è fatto solo di nanocorrente, infatti non si sente, cioè assolutamente, l'obiettivo, miglioramento progressivo della texture cutanea, effetto levigante estremamente efficace e duraturo, qua dice, non sentirete nulla, ma noterete tutto, le nanocorrenti energizzanti, si sincronizzano con il vostro corpo, per offrire risultati straordinariamente efficaci, inserite questo trattamento professionale, nel vostro regime di skin care, per ottenere una texture notevolmente più liscia, e una bella più compatta, che non potrà migliorare, che migliorare con il passare del tempo, una volta scoperto il potere delle nanocorrenti, non si può più tornare indietro, devo dire, che concordo con questa cosa, comunque, ecco qua, poi velocemente vi faccio vedere qualcos'altro, tipo quello dell'unico che non ho ancora fatto, è quello delle labbra, però, grazie a Dio, non ho particolare bisogno, però, c'è anche quello specifico per le labbra, che dura due minuti, quelli che io faccio più spesso, sono, questo qua, dove, occhi, questo qui per gli occhi, che si fa solo in questa zona qua, se non sbaglio ho fatto la clip, eventualmente ve la metto qua, questo serve a, vabbè, illuminare, riempire, sollevare, risvegliare il contorno occhi, attenua le occhiaie, riduce le borse, solleva lo sguardo, su questo alzo le mani, perché non ho particolari problemi di borse occhiaie, però, la microcorrente è bassa, infatti questo non si sente assolutamente niente, vibrazioni morbide e ondeggianti, l'intensità di questo trattamento, e l'altro che faccio praticamente sempre, anche perché dura pochissimo, è il lifting delle sopracciglia, che è questo qua, questo lo faccio sempre, cioè già quello lì, già di su ce l'ha, ma questo qua, fatti bravo praticamente, non sto scherzando, questo pure è un'intensità 2, sì, poi microcorrente di livello medio, delicata sensazione, eccetera, eccetera, comunque ce ne sono veramente tanti, e so già che, questo è il telefono, è lento, non è lenta l'app, è lento il telefono, ce ne sono tanti altri, c'è tipo, quello per sgonfiare, c'è quello per il contouring, che lo chiamava se non sbaglio, rimpolpare, insomma, li potete divertire, il, cioè la descrizione è in italiano, mentre il video tutorial, mentre voi seguite il trattamento, è in inglese, però, cioè dovete copiare quello che fa, come che si chiama lei, non mi ricordo più, la fondatrice, dovete seguire lei, veramente semplicissimo, comunque, la maggior parte delle volte, io faccio quello da 4 minuti, poi ogni tanto, se ho più tempo, faccio quello da 12, da 10, da 12, quello tutto in uno, e beh, insomma, cerco di alternarli, però è entrato veramente, molto facilmente, nella mia routine, parliamo dei gel, allora, i gel, quello che vi arriva in dotazione, è lui, che è questo qui, si chiama, si chiama, electric complex, io, come sapete, ho sempre utilizzato, quello da, il gel d'ecografia, sono un po' diversi, perché il gel d'ecografia, è un gel acquoso, quindi, praticamente, a base d'acqua, si toglie molto velocemente, io con questo, mi sono trovata benissimo, ce l'ho ancora, questo è quello che io riempio, ma ho comprato quello grande, da un litro, mi sembra, forse, non mi dico, comunque quello grande, no, di più di un litro, comunque, quello grande, e questo qua, è ottimo, quando ho provato questo, che appunto, vi arriva in dotazione, questo formato, poi quello di vendita, è più grande, questo è quello che vi arriva dentro, e comunque, vi dura un bel po', e questo qui, quando ho provato, mi sono subito innamorata, perché, la pelle, dopo che l'avete rimosso, a parte ovviamente, anche per merito del dispositivo, che devo spegnere, a parte appunto, il merito del dispositivo, notavo la pelle, super luminosa, super 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 luminosa, e ho detto, cavolo, però, questa è la consistenza qui, cercherò di farvi vedere, le consistenze, così almeno, rendiamo, ancora più utile, questo video, allora, questa è la consistenza, del gel d'ecografia, vabbè, è un gel d'ecografia, penso, spero, che in vita vostra, avete fatto, almeno, un'ecografia, soprattutto alle donne, che ha l'ecografia, all'utero, l'ovaio si fa, questo è un gel d'ecografia, semplicissimo, questo è il gel, che arriva, in dotazione, questo qua, che comunque, vedete, è abbastanza liquido, ma, la consistenza, è più, oleosa, che poi, non è olio, ma è glicerina, se non ricordo, sì, mi sembra che sia a base, di glicerina, e questo è quello basico, dopodiché, ci sono altri, tre gel, e andiamo per ordine, crystal gel, che è questo nero, che è di anticipo, è quello che mi è piaciuto di meno, non tanto per la consistenza, che è un po' più denso, ma questo di per sé, non è un problema, quanto per, ma lo do è che in realtà, qua non si sente, ma io sul viso, mi ricordo di averlo sentito, ma magari era la mia paturnia, cosa probabile, comunque, questo è un po' più, un pochino più denso, ma rimane comunque, molto fluido, non è stato il mio preferito, ecco, questo come sensazione, mentre mi sono piaciuti molto, questi due, che sono il silver, e il golden gel, allora, se ricordo bene, il silver gel, è quello consigliato, per le pelli, particolarmente reattive, quindi, in questo caso, vi consiglio di optare per lui, la consistenza è questa, è leggermente bianchiccia, la colorazione, ma rimane comunque, più liquido, di quello del crystal, ed è questo così, e infine, lui, che costa un sacco di soldi, ve lo dico, ed è quello che sto usando di più, che ovviamente, io avevo la testa lì, detto, non vedevole, iniziare ad usare lui, e infatti, è quello che ho usato di più, che è fatto così, ha la stessa consistenza di questo, diciamo, così all'apparenza, secondo me, risulta, leggermente più, leggermente, più oleoso, le ho sentendo sempre con glicerina, però, 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 quando lo stendete, quando, sapete, è strano da dire, non so se, non so neanche se si possa definire, ma io sento il profumo dell'oro, e credo che ci sia davvero, comunque, qua, e ci sono all'interno, infatti, ne ho sprecato un po', è costato veramente tanto quello, e ve lo dico, però, è ottimo, è ottimo, ma, il mio ma è, non ho trovato grandi differenze, tra utilizzare lui, e utilizzare questo, anche a lungo termine, poi, per carità, magari, fra un po' di tempo, ne possiamo anche riparlare, ma, considerando il costo, personalmente, vi dico, se volete, già, magari, contestualmente, quando acquistate, il prodotto, cioè, il zip halo, volete acquistare un altro gel, così, per non fare un altro ordine apposta, io, prenderei, sicuramente, un altro di questo, magari, appunto, il formato di vendita, quello più grande, e poi, se proprio proprio, magari, volete togliervi la curiosità, avete la pelle, particolarmente reattiva, questo qua, ma, in fin dei conti, io penso che, considerandola, non lo so, perché poi da vedere, come andrà, ma, quando arriverà il caldo, quasi sicuramente, io tornerò al gel, l'ecografia, secondo me, vi fermo già, ecco, non mi scrivete, ma posso usare il gel d'aloe, ma posso usare, che ne so, l'olio di, no, assolutamente, allora, oli, no, ne ho, come mi ha scritto qualcuno, olio di jojoba, assolutamente no, perché, non sono fatti per condurre, la micro e la nanocorrente, quello che è, se proprio proprio, volete andarvi a vedere, l'etichetta di questi, se trovate una cosa, veramente, molto simile a questa, potete prenderli, però sappiate, che il rischio è di, non, cioè, voi magari lo usate il prodotto, ma come fate ad essere sicuri, che stia conducendo bene l'impulso, quindi, io vi dico, andate sul sicuro, prendete un gel d'ecografia, costa poco, ci fate un sacco di tempo, siete sicuri che conduce, o prendete uno di questi, oppure, se trovate una roba, con la stessa formulazione, ben venga, ma non mi dite, olio di jojoba, come mi è stato scritto, tanto meno, per carità di dio, il gel d'aloe, ragazzi, evitate, ne abbiamo già parlato in passato, il gel d'aloe, è sensibilizzante, rischiate, come è successo, ad alcune persone, e neanche troppo raramente, che vi, si irriti la pelle, perché si diventa, molto facilmente, allergici, comunque, irritanti, diventa un po' irritante, costa anche di più, quindi, ma perché dovete spendere di più, pensa l'aloe, che sembra che risolvi tutti i problemi, no, comunque, questo è quanto, io credo di avervi detto tutto, magari avrò messo, dei scrisciozzo, del primo e dopo, quel trattamento, è stato allucinante, io ho interrotto il video, dopo aver fatto metà viso, cioè nel senso, che ho smesso la registrazione, e ho detto, tanto l'altra metà è uguale, e quando ho finito l'altra metà, cioè dopo, quando ho interrotto il video, si vede proprio il salto, secondo me, dal primo e dal dopo, che è allucinante, avevo fatto anche delle foto, del prima, di quando ho iniziato, ad usare Zipalo, sperando di farvi vedere un dopo, non sono riuscita a fare delle foto, che rendano giustizia, anche perché, negli ultimi tempi, è successa una cosa, con un prodotto, che mi ha un po', adesso mi sto riprendendo, ma mi ha un po', ho scazzato la pelle, quindi mi dispiaceva, che sembrasse, che avessi la pelle peggio, di come era prima, cioè a livello di texture, di colorito, perché ero tutta, disomogenea, guardate, c'è questo prodotto, che veramente, non avevo l'ora di parlarvelo, nei prodotti finiti, mi rischio, secondo me, per una denuncia, per diffamazione, non scherzo, cercherò di essere diplomatica, ma non sapete che, tanto me lo leggerete in faccia, quello che penso, oppure ve lo sto anticipando adesso, comunque, in conclusione, accattatevi, cioè se potete, ragazzi, veramente, questo è un prodotto, eccezionale, non ho altre parole, veramente, vi sfido a trovarmi, una recensione negativa, di questo, di chi l'ha usato, che non abbia visto, dei risultati, sotto troverete il link, che come sempre, vabbè, è un link affiliato, troverete, cioè vi porta alla pagina, io ho chiesto, in occasione di questi video, se mi alzano lo sconto, e quindi, dalla pubblicazione, di questo video, voi troverete, uno sconto, un po' superiore, rispetto a quello, che c'è di base, diciamo, con il mio codice, quindi, se riusci ad acquistarlo, in questi giorni, poi troverete anche, la scadenza, qui sotto, meglio, meglio per voi, ricordatevi, che comunque, si può acquistare, anche a rate, con Klarna, se non ricordo male, è un sistema, che uso spesso, tipo, mi sono comprato, il computer, con Klarna, perché è molto comodo, vi alleggerisce la spesa, che comunque, non costa due lire, per me, è straconsigliato, con questo, vi saluto, ringrazio, Karen Body, ci sentiamo, il prossimo mese, perché vi devo parlare, di un'altra cosa, molto figa, mettetevi già, mettetevi pronti, di un'altra cosa, e il prossimo mese, il prossimo mese, Grazie a tutti.